A cinque mesi dall'alluvione che lo scorso maggio ha contato 16 vittime in Emilia Romagna e procurato ingenti danni anche fra Marche e Toscana, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione per le tre regioni in questione, ha fatto tappa questa mattina nella sede della provincia di Pesero Orbino fornendo rassicurazioni ai territori martoriati riunitisi per l'occasione. Le Marche otterranno 55 milioni di euro per 171 interventi, 25 milioni di euro dei quali con esigibilità nel 2023, compresa la progettazione per interventi sul 2024 relativi a ricostruzioni e riparazioni. Figliuolo ha illustrato un'ordinanza pilota relativa ai fiumi che punta su semplificazioni di procedure per garantire celerità su interventi e rimborsi. E questa sarà l'ordinanza madre perché questo quadro di semplificazioni sarà inserito anche per la rete viaria e per le altre opere. Ha un quadro di semplificazioni importante, qui abbiamo avuto il parere dell'autorità nazionale anticorruzione, del ministero di infrastrutture e trasporti, del ministero dell'ambiente e della cultura. Sostanzialmente conferenza dei servizi semplificata con tempi ridotti, possibilità di effettuare opere entro i 500 mila euro con affidamento diretto, fino a un milione con tre operatori economici, fino a due milioni con cinque operatori. In provincia Figliuolo è stato accolto dal presidente dell'ente Paolini in compagnia dell'assessore regionale Aguzzi, del collegamento da remoto del prefetto greco e dalla presenza dei sindaci dei sette comuni provinciali inseriti finora nello stato d'emergenza. Vale a dire Pesaro, Fano, Urbino, Gabiccemare, Monte Labate, Monte Grimano Terme e Sazzo Corvaro Auditore. Sette comuni provinciali che ora diventano 12 dopo il riconoscimento ufficiale dello stato d'emergenza, anche per Macerata Feltria, Pian di Meleto, Tavoleto, Frontone e Urbagna che rientreranno nel novero degli stanziamenti per le marche. Di più di 55 milioni, 55 milioni e 160 mila euro, di cui oltre 25 milioni con esigibilità 23, quindi opere che saranno tutte fatte nel 23 o progettate nel 23 e poi i successivi 27 milioni saranno nel 24, opere del 2024. Quindi ritengo un buon quadro e poi chiaramente come ho detto in sala agli amministratori locali, siccome l'alluvione è molto complessa ed è diverso rispetto a un sisma, che chiaramente anche quella è una tragedia, ma una volta avvenuto a bocce ferme si capisce bene cosa fare, nell'alluvione un intervento che oggi si pensa procrastinabile potrebbe diventare di sommorgenza perché magari una frana si muove e noi col buon senso agiamo subito, non è che dice siccome non era perimetrato non lo mettiamo, volevo rassicurare questo. Così come tutti gli interventi che hanno un nesso causale con l'alluvione sulle opere pubbliche, strade e fiumi vengono fatte indipendentemente se l'area ha inserito o meno nell'emergenza. Dopo l'incontro in provincia il generale Figliuolo ha visitato di persona il territorio di Montegrimano Terme, uno dei comuni più martoriati della provincia, territori ai quali sono state date garanzie per ristori previsti che arriveranno entro fine 2023. Ristori per le famiglie e le imprese completi con il tempo necessario che ci vuole a istruire le pratiche e tutte le cose. Noi abbiamo inizialmente proposto a livelli che avevano subito danni, che erano oltre 160. Ovviamente non sono stati presi in considerazione, sono stati giudicati anzi eccessivi da parte del Dipartimento nazionale rispetto ai 90 della Emilia Romagna. Su questo quindi abbiamo fatto una ricognizione più puntuale ed inizialmente sono stati riconosciuti in stato di emergente solo 7 comuni, quelli del Pesarise che erano qui oggi presenti. Su questo come Regione Marche abbiamo fatto un'ulteriore ricognizione ed approfondimento. Abbiamo anche individuato dei criteri là dove era piovuto di più, là dove c'erano maggiori danni evidenziati dai comuni, abbiamo sovrapposto questi criteri, abbiamo richiesto nuovi sopralluoghi in 53 di questi comuni marchigiani, ulteriori 53. La visita da parte del Dipartimento nazionale della struttura del generale Filvolo è avvenuta puntualmente e li ringrazio, ma di questi 53 comuni di nuovo rivisitati solo 17 attualmente sono stati presi in considerazione e quando dico presi in considerazione non uso un'altra parola perché ancora non è stato dichiarato su questi lo stato d'emergenza, ma sono fiducioso che questo avverrà. Per quel che riguarda la provincia di Pesurbino sono Macerata Feltrea, Pian di Meleto, Tavoleto, Frontone e Urbania. Poi è stata presa in considerazione anche Senigallia che aveva avuto seri danni che inizialmente non era stata presa in considerazione. Altri comuni sono mi pare un paio nel Maceratese e il resto comuni del Fermano che inizialmente non erano stati individuati che invece avevano avuto sinceramente seri danni perché noi eravamo stati in apprensione in quelle ore sia per il Fermano che per il Fesarese. Quindi ecco 17 comuni sui quali credo che sarà individuato un nuovo stato d'emergenza e conseguentemente nuovi finanziamenti. Anche su questo voglio essere chiaro. Saranno suddivisi quei 55 milioni già individuati per i sette comuni del Pesarese. Saranno ulteriori fondi perché altrimenti qualche sindaco si cominciava a preoccupare in questo senso. Iniziare a lavorare subito in attesa di ristori, di fondi per risistemare la viabilità che comunque è compromessa. Come dicevo ci sono dei comuni che rientrano in dei finanziamenti che hanno avuto sulla viabilità e magari il comune confinante che ha subito la stessa frana è giusto come ha detto oggi anche il generale Figliolo che rientri nel finanziamento perché sarebbe assurdo che una strada è interrotta a metà perché un comune è stato riconosciuto e l'altro no.